Ciao a tutti, sono Nelly e adesso faremo una reaccia negli NST 127 Chain Tra 3, 2, 1 Devo bastare il senno giapponese Oddio Zadun Mi piace che porto molto easy Allora stacca! Di vesti! Aiuto aiuto aiuto! Oh mio Dio Oddio ballo Ah ora ho fatto tutto in inglese Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Si giapponese Che carino aiuto a così canta nella sua lingua natale Allora 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 no Mamma mia Hai visto il braccio di Mark? Non mi piace Allora Sì 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 Guarda se ti ami viene caldo Ogni volta Ogni volta Ogni volta Allora Sì 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 Oh mio Dio Oh mio Dio Il ballo è del ritmo Sì Il ballo è del ritmo Sì Allora 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 Tocca te la diri solo Fallina non lo fai Mamma Ayuta no Ayuta li chiamiamo colore le lentine Mamma Ayuta li chiamiamo colore le lentine Mamma Perché poi Ayuta ti fa sempre quel cazzo di sguardo Sì Ayuta Sono uguali No Comunque Allora Per quanto riguarda il video mi è piaciuto molto Cioè Il video in sé è proprio una figata assurda Hanno Hanno il concept di meccanici no Quelli sexy Quelli che ti trovi il poster con meccanico Con gli addominali tutti ulti Esatto La chiave in crisi magica Al minimo guardiamo i titoli qui Se sono pure fatti male Sì Ma io avevo un ansia da mamma Roli Mamma mi si fa male te Se ero lì prima Ciao O si Marco con qualcosa che sparava a fuoco Esatto Quindi niente In caso scrivete nei commenti cosa ne pensate E ci vediamo al prossimo reaction Ciao